L'Abruzzo diventa palcoscenico dei migliori giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei e da Tollo partono i concerti dall'Orchestra Sinfonica Giovanile Europea e della Junior Orchestra diretti dal maestro Andrea Di Mele, violinista e direttore d'orchestra con grande esperienza musicale internazionale. L'OSGE e l'Orchestra Sinfonica Giovanile Europea e la Junior Orchestra sono praticamente un piccolo miracolo in musica che avviene nel borgo di Tollo in cui per 15 giorni diventa praticamente una Salisburgo piena di giovani, piena di entusiasmo, piena di musica, di passione, di cultura e soprattutto incontro, incontro tra questi ragazzi che diventano tanto, tanto amici e uniti dalla stessa passione per la cultura, per la musica, per i grandi musicisti. Noi quest'anno proponiamo un programma molto ambizioso eseguendo la Settima Sinfonia di Beethoven e la suite dalla West Side Story di Leonard Bernstein per la Junior Orchestra invece ci sono degli arrangiamenti fatti da me e per loro, adattati da me e per loro e altri scritti da una collana proprio appositamente per ragazzi. Il comune di Tollo ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, ricorda il sindaco Angelo Radica. Diamo un contributo perché ospitiamo appunto per 10 giorni 120 ragazzi di diverse nazionalità che stanno insieme che scambiano esperienza, scambiano opinioni e che suonano insieme perché lo ricordo la musica è un linguaggio universale che unisce e che crea amicizia e fratellanza. Grazie all'Accademia Musicale di Tollo, al suo presidente Orfeo Patrizio, ai collaboratori Marco Patrizio e Antony Rosa e all'infaticabile Diego Tiberio perché anche quest'anno ci hanno regalato questo importante appuntamento. I concerti itineranti fanno tappa dopo Tollo, venerdì 12 luglio, al Teatro Due Pini di San Vito Chietino, il 13 alla collegiata di San Michele Arcangelo di Città Sant'Angelo e gran finale all'Anfiteatro Romano di Alba Fucens il 14 luglio.